Come on, 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 Antifa, Unione! Da Milano a tutta Italia oggi le parole d'ordine è la stessa, bloccare l'IDL Gelmini andatevene tutti a casa, dimetteteli perché gli studenti, le scuole, le università rifugiano Gelmini e il suo governo. Gli studenti stanno красiato Milano! I treni in partenza e in arrivo subiranno ritardo! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti